Eccolo Ricky, bravo, ciao Ricky. Il cagnolino, forse incuriosito da qualche altro animaletto, si era infilato in un tubo e poi in una diramazione dalla sezione sempre più piccola, rimanendo incastrato. Due pompieri dell'USAR sono intervenuti con una lunga sonda telescopica dotata di telecamera e dopo una cinquantina di metri hanno individuato il cane. I vigili del fuoco hanno utilizzato un piccolo escavatore per ricavare una buca nel punto individuato, riuscendo infine a salvare il cane. L'animale in colume è stato affidato alle cure della sua padrona. Le tecniche utilizzate per l'individuazione e il salvataggio del cane, hanno precisato i vigili del fuoco, sono state quelle utilizzate dalle squadre per il soccorso alle persone sepolte da macerie a causa di crolli e terremoti. Ciao Ricky. Ciao Ricky.